Ancora il problema rifiuti, ancora cumuli di spazzatura ai lati delle strade, sui marciapiedi. La situazione giorno dopo giorno non sembra assolutamente nemmigliorare. Questa mattina l'esercito è intervenuto con numerosi mezzi in via Masullo nel piazzale adiacente al Palco Robinson, dove hanno prelevato circa 40 tonnellate di rifiuti. È stata inoltre attuata una disinfestazione che ha abbracciato un po' tutto il territorio cittadino, ma nonostante il massiccio intervento, i cittadini di quarto hanno anche quest'oggi dovuto fare i conti con una situazione che ha i limiti della sopportazione. I marciapiedi completamente invasi dai sacchetti malodoranti costringono i pedoni a camminare al centro della carreggiata. Le finestre delle case sono sempre più chiuse, i balconi sempre meno vissuti. Il secondo intervento dell'esercito, a pochissimi giorni di distanza, non è riuscito a risolvere il problema dei rifiuti solidi urbani, che ammontano ormai a circa 1500 tonnellate. Se l'ufficio Flussi dovesse per ipotesi autorizzare gli scarichi straordinari equivalenti a 50 tonnellate al giorno, ci vorrebbe circa un mese per eliminare tutti i rifiuti dal territorio cittadino.